Cari amici followers Ho segnato questa scatolotta Da Amazon Scatolotta è una box da quanti euro? 19? 25 19,90 Eh beh Lei pensava che non arrivasse oggi invece È arrivata oggi, divideremo questa È domenica Voi sapete che i corrieri di Amazon vengono ancora domenica? No Un marocchino pazzo che mi diceva Paolo Bellavidi Poi Allora divideremo in questo video Quanti aperti Nella prima mangeremo 3 cibi Nella seconda mangeremo 3 cibi Nella terza mangeremo 3 cibi Nella quarta mangeremo 3 cibi Allora in pratica Dentro noi curiosi come la morte Abbiamo già aperto questa scatola Per vedere che C'era dentro E abbiamo contato Bensì quanti snack? 12 Perfetto Perciò Inerente alla mia emetofobia Direi che non possiamo assaggiarli tutti Altrimenti nausea Paura Terrore Tremolio Sudare freddo eccetera eccetera Quindi Abbiamo ben deciso di Farvi vedere che cosa c'è all'interno Per 20 euro Quattro cagate E poi Di assaggiarne 3 Assaggiarne 3 Per Dirvi appunto la nostra Poi gli altri 3 Le assaggieremo domani Dopodomani Via dicendo Così poi io assemblerò i pezzettini E Vi diremo Qual è il nostro prefe Di cosa sapevano Se sapevano di vecchio Se sapevano di vecchio Diciamo questi 3 snacks Questo C'è un motivo Perché c'è il bicchiere C'è un motivo Ok cari amici Apri la box Vi mostro la prima Come si presenta La box si presenta così Una classicissima scatola di cartone Pagata 0 centesimi 0 centesimi 0 centesimi 0 centesimi Con American Mini Market Ok Un'immagine non invitante Aprendo la scatola Troviamo Un pezzo forte No ci si presenta così Poi mio fratello Vi illustrerà Un prodotto singolo per prodotto Ok vai Allora Abbiamo Un ovetto Che però hai fatto di oreo Ma abbiamo un ovetto Di cioccolato Però di oreo Ok Poi abbiamo E sono carne secca piccante Come la salciccia Capitino Poi abbiamo Poi abbiamo Un aspetto specchio di plum cake E ma amore Ma devi dire la marca Allora abbiamo Ostes Aspetta Ovetto Oreo Jack Link's Beef Jackery Quindi Carne secca E questo di Ostes 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 Un rubato da un aereo Per metterlo in questa box Poi abbiamo I Baby rat Degli Alistinè Che dovrebbe essere Ve la facciamo vedere? No? Lo guardiamo solo noi Dovrebbe essere Una berretta Di qualcosa Poi I Reese I famosissimi Reese's Nutrageous E Assetto tutto il contrario Cos'è c'è stato? Con Caramello E Arachidi E Arachidi Che abbiamo denotato che Abbiamo denotato che Abbiamo denotato che Va molto Molto di moda qua l'arachidi Il burro da arachidi Sì I Kit Kat Però C'è anche Ok I Crunch Sempre della Nestlé Ho un brufolo Si chiama Jimmy Dione Caffè Il Butterfinger Butterfinger Perché a me sembra una cosa proteica questa Lo sai? Sì anche a me C'è sembra proprio una di quelle cose Barrette Mi va proprio la impressione Gli Skittles Dips Alla frutta C'è il dipto Rosso fragola Verde lime Arancione Orange Che Arancione Giallo Limone E Blu Viola Vabbè Viola non sappiamo chi caso è Si No Black Currant Lo scopriremo se lo mangiandolo Adesso Poi abbiamo le Pippo Che Le Pippo Chi se lo ricorda Per favore Che c'era anche in Italia Non so ne americane un cazzo Ma le Pippo quello originale così Ma non era così Era azzurra la carta delle Pippo originale Vero mamma? No era azzurra Va bene O era il ciocco fresh azzurro Poi gli sneakers crisp Crispy McBacon Poi 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 abbiamo Una Ashley's Cookies Cram Candy Che semplicemente è la Crema degli Oreo fatta a cioccoletta Ok Assaggiremo prima le cose più che No Adesso insieme Assaggiremo prima le cose più D'accordo Unanime Sceglieremo Si vuol dire di tutti e due Vuol dire Se vuol dire Se vuol dire Vabbè sceglieremo Ah mi fa male di tutto e piede Ah Sceglieremo tre cose Non ti temo Sceglieremo tre cose insieme E le assaggeremo un pezzettino a testa E ovviamente vedrete la reazione Perché noi adesso vi diremo che cazzo pensiamo Vai Tu cosa scegli? Scegliamo uno a testa e poi un unanime Ok Io scelgo Che merda Lo sapevo Sceglieremo Io scelgo questo perché secondo me è quello che ci piace di più Secondo me questo ci piace anche se c'è la roba bianca qua sotto che sembra un po' burro Non la mangio Io passo Ok poi Direi l'ovetto oreo io Qualcosa di unanime o vettoreo? Dicei direi No? Si Sì O facciamo una barretta Non abbiamo neanche una barretta E volevo uscire delle mie risi Allora ci diamo il famoso risi Ok queste sono le nostre tre scelte Abbiamo dei caramellini di frutta Un plum cake con della crema muffita E risi Tutte queste altre cose le mettiamo via Ma mettile bene in ordine Ma va 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 Meno male che ne abbiamo scelte la caragnonna Perché quella è piccante E come c'è Adesso devi guardare youtube Da cosa iniziamo? Ok vai Che mal odore Che mal odore C'è scappato l'uomo Allora l'apparenza fa paura Ti dico che sembrano uova di qualche animale Guardate Cioè poi sopra c'è una S che fa molto E poi soprattutto non sono neanche colorati Quindi non riesci a capire che colore è quello che si fa per mangiare Questo è lime Vabbè io ne stagiono vai Mettili qua dentro Allora Vabbè Vado Fammi vedere È verde è lime No c'è una macchia È lime È durissimo Spesso Che gusto eh Posso provare anche un lime Non mi piace Ho versato dell'acqua Eh sì Appiccica tutto i denti A me piace le cose che appiccicano Ma c'è un po' di acqua anche me Un po' paurona Vai Io basta Anch'io Mio fratello va a sputare Questi fanno schifo No No questi fanno veramente schifo Strano un consigliato No questi non sono buoni Smetti di toccare la tovaglia e questo Prontino a muoversi la sono per favore Io direi di passare al plum cake Con la crema di muffa Prendi un coltello e te lo tagliamo a metà Un coltello Ma il profumo è buonissimo amore Ma il profumo è buonissimo amore Che cosa c'è dentro Ecco perché la bianca Minchia Crema di Plastica Quel caffè la bevo Vabbè vai Vai Crema di plastica Cin 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 Non ho soggetto la crema Sa di Kinder Paradiso Allora L'ho assaggio Non ne mani Caldo però Non ne mani Non so ma è caldo Non ne mani Lo so Non ne mani Finito Per me basta Ma mangi di buono Oliko Non mi piace il paradiso Ma è buonissimo Ok Ha provato A differenza dei figli del demonio Lui è quello che aspettavate da tempo E noi ve l'abbiamo fatto provare di prima Perché Sai che cosa c'è questo plum gay? E' un po' viscido Ho toccato Guarda è tutto untoso Ho toccato sta cosa Non riesco neanche a biscivolare le mani A biscivolare le mani Vero? Gli americani Gli americani Ho già capito Sneakers Lasceremo il pezzo di Jerry Scotti Che fa? Se non lo è affatto Se non lo è affatto Non lo voglio mangiare Un stronzino di cane Tagli anche il cioccolato tagli Mostro Mostro di satana Oh Che schifo Dai ti do quello più piccolo Un piccolino Come me Sono tante similitudini Ok In questo video Vai Due, tre Il caramello Uno, due, tre E' il caramello E' il caramello L'ho messo in bocca E' il caramello Un, due, tre E' il caramello E' il caramello Un, due, tre 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 Ma è buonissimo Mi piace E' buonissimo Mi piace E' buonissimo Sa di sneakers Cioè questo è uno sneakers con una forma di merda Non è male È malissimo Perché alla fine lascia Quel gusto di tostato Delle noccioline Infatti lo mangio Tu muori Che tu un giorno Tutti moriamo Tu muori prima di me Continuando a mangiare in queste case Allora Io voterei le cose che abbiamo mangiato oggi Da uno a Cinque Due Perché ci sta l'impegno Questo Mangialo Questo Mangialo A questo gli do un bel 4 Perché sembra che c'è la muffa Quindi è un voto in meno Io 3,5 Ma è così contenta Quando l'hai privato E' troppo oleoso Cioè vi giuro Guardate la carta Rimane tutta Un ticcia schifosa Un ticcia schifosa La crema Se Hanno usata Odore di plastica L'apparenza E' una merda La confezione E' anti igienica Secondo me Perché Il culo Cioè permettetemi la parola Del culo della brioche Va direttamente sulla plastica E non c'è il cosino Di carta All'interno E come ultima cosa E' un po' pesante Invece questo 5 5 5 decisamente Quindi se non mi piace la fine Quindi qua 5 meno Non mi piace invece Mi piace Sembra lo Snickers Snickers Il mio prete Bene Ci vediamo nel prossimo video Nella prossima parte Dove assaggeremo Altre tre cose Nella prossima parte Nel prossimo video Da mangiare Ci restano Sottanto Queste cose Quindi tra tre giorni Le avremo finite Quindi tra tre Secondi Praticamente Per voi E' il piercing Da Valerio Saffelli E' tutto Lì nello studio Roma Wow Bentornati cari amici Oggi Sono un po' sbattutina Ieri stra fantastica Oggi sbattutina Perché piove Fa freddo Siamo andati al work E oggi siamo qui Per assaggiare I prossimi Tre dolcetti Uno lo scelgo io Uno lo scegli tu E uno di unanime accordo Io scelgo la carne Dolcina con capelli Stasera Bene La morte Vuole Io scelgo questa Scusi i capelli Tutti i gonfi Non pensavo Se fossero così gonfi Guarda Scegli questa E come ultimo Cosa scegliamo? Mmm Avetto Che l'altra volta Non l'abbiamo scelto Perché volevamo Scegliere Eh ma poi rimangono solo barrette Meglio una barretta E no Perché non abbiamo neanche una barretta Abbiamo tante barrette Ben cinque barrette Questa? No Questa? Sì Fa un po' di Sì? Come si chiama? Di quello la con i ceaglioni No no Secondo me questo è È come il milka Con i biscottini È il Ok Perfetto Questi sono i nostri tre Le nostre tre choose Choose Tanto prima o poi dovrei arrivare 3, 2, 1 La puzza No Ti prego Non mangiamolo Va bene Sì Che odore Sta di morte No raga Sapete di cosa sa Il piccante Come la salciccia Ma troppo piccante Non posso mangiarla Sa di bacon Però Peperoncino Però No 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 Iniziamo con Hershey Va bene Hershey Cioè Le sue di lei Non so Va bene Questo non puoi spezzare Una barretta di cioccolato Con i quadrissimi Sei già spezzato da sola Mentre l'aprivo È arrivata la mammona Oddio L'apparenza è Molto ambigua Ma no Con la carne Che odore di merda Che ha Questa è l'apparenza La barretta si è rotta Scusate Davanti è così E dietro è così Dietro fa schifo Se posso dire Il profumo è buono Sa di cioccolato bianco Sì E dovrebbe essere fatta Con crema di oreo Quindi Tieni Vai Sei pronto? Ne abbiamo due Tutte due Mamma stiamo facendo il video Vai Sei pronto? Ma una O tre Insieme Una Ok Non facciamo il video Eh? Nessuno? Oh Villa è una satisfesa Non l'hai visto Non l'hai sentito Come? Questa è buona Però Mmm Forse in America Me ne comprai Buona Approvated Poi dopo dare i migliorti Crunch Proviamo Dovrebbe spezzarsi molto facilmente Già Una barrettone Allora L'apparenza è Carina Perché c'è la scritta Crunch Ma ne aggiungiamo una Perché Questa parte dura pochissimo Sì Cosa fai Se dovrebbe spezzare Questa cosa Ma credo che anche questa sia buona Perché è solo cioccolato E nocciole No Non sono nocciole E cosa sono? Sono cerealini Ah Che però Non si vedono Vabbè Si vedono Si vedono solo sotto Vado? Vai Due Due Ti spacca lenti Però È buono Lo approvo Questo round Tutte cose buone A parte Che se non l'odore Ti uccide Può essere buonissimo Questo è il mio preferito Mamà Devo cambiare l'enzuola È quello che avevo fatto la mattina Buona 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 Dobbiamo un altro Baby root Beirut Io non so perché in America fanno le cose che sembrano stronzi Di cane Abbiamo un dubbio Un grande dubbio No il profumo è buono È stato di sneakers Come tutte È uguale È uno sneaker È lui Buono È durissimo È duro come Un sasso Però Mi soddisfa Quindi Riassumendo Zero È un odore che io non assaggerai neanche morta Mamma La carne secca Buono Il profumo è buono Nostra madre è un'aliena Non mangerei mai Cinque Troppo Cinque Cinque Quattro e mezzo Tutto bene Anch'io perché c'è troppo caramello Sì Il pasticciano Vedi Ci vediamo domani Che sarebbe dopo per voi Un altro episodio Allora Benvenuti Cari Ciao Iniziamo dall'ovetto direi L'ovetto Lo stavate aspettando da tempo Allora Come si presenta? Niente Non ve lo facciamo vedere Perché Francia l'ha già mangiato Ecco Vedi che è tu Porco due È in bilico tra santi e falsi dei Sto telefono Però vabbè Fiano Fermo Non spingere nulla Perché se spingi qualcosa Siamo rovinati Abbiamo un ovetto Di cioccolato Fatto di oreo Della Della Cadbaio Cadbari Adesso lo proveremo Adesso lo prevediamo Iniziamo a scartare Dov'è Non sentire l'odore L'odore è buono Di liquore Adesso c'è Del liquore No no magari non c'è però L'odore c'è Allora Ha una linea Lo divide Aprilo Non ve l'aspettereste mai È pieno Mio È un po' come la barretta di cioccolato Perché Vieni veloce Perché sennò io Arrivo Che sono arrivato veloce Fatto Ci sei È un sprant Profumo è buono Sa di ricorre Sa di ricorre Sa di fiamma Sì Fiamme Ci sono in pasticcheria Avete presente Quel pasticcino Fatto così Marrone È chiaro È uguale Non ho detto Di cerare il liquore Qua dentro Poi Butterfinger La solita merda A parte che si presenta Spezzato E dentro È arancione Qua direi L'odore è di burro D'arachidi Tutto spezzettato Duro come la morte E poi Quasi spacchiamo i denti No Sembra quasi Che ci sia Del biscotto Dentro Biscotto di burro D'arachidi Vai Burro D'arachidi Secca Ci sei? Sì Uuuuh Sei fortissimo D'arachidi Allora È un po' Salatino Sulla punta Della lingua Ma È abbastanza buono La consistenza Non è da 5 Del vofer La consistenza Del vofer Il sapore dello Sneakers Però Vabbè D'arachidi Perché lui è troppo piccolo Perché lui è troppo piccolo Perché lui è troppo piccolo raga Ma chi ha 25 anni come me Sa che le pippo C'era pure in Italia Però Questo è spaziale Billy Perché è Kinder Allora io mangio il culo E tu mangi la testa Con me è buono Io so Giacomo Abbiamo 15 anni di felenza Asciacquati la bocca Prima di mangiarlo Perché così senti bene il gusto L'importante è che non mi mangi questo Perché No Buono Ultimo Sneakers Crisp Pinus Bacon Anche questo sarà Una Chiavica No No vabbè Una cacca No raga Sono due piccolini Belli Gli unici che non avevano una forma di cacca Sono stati Il crunch E il kit kat Sono assomigliano i bounty Fatti che lo taglio E il kit kat E' lui Andati il tuo Ma tutto è vero? E' bellissimo E' molle Maduro Paoli Paoli Non so se ce la faccio a morte Già la consistenza No La consistenza mi uccide Paoli Mangialo Fidati Allora Sono di sneakers Il primo è un patto cioccolato Il secondo è crema d'arachidi Il terzo sono chicchini di riso E il quarto è piscia di gatto Ma io No dai Paoli La consistenza mi uccide No La consistenza mi uccide Paoli Fammi Ti mangi questo che hai masticato Meno questo Mamma mia Cos'è questa roba marrone? Cagamello Cioccolato Arachidi E' piscia di gatto Paoli Ma non mi piace La consistenza mi uccide Vabbè Paolo 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 Ho fatto Cinque Ehm Quattro E mezzo E di guarnicile Poi Lei Della barretta Tre e mezzo Tre Perché sa di barretta proteica Poi Ehm Kit Kat No è Pippo No Kit Kat Prima Kit Kat Cinque Cinque Pippo Pippo Dieci E Sneakers Due Sa di pipì di gatto Mmm Ok Eccomi Meno male che si è ripreso Che mi stavo ingozzando pure io Non hai visto quel pezzettino critico Proprio critico Critico In cui ho fatto Pippo 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 Le box americane E' finita Questo video E' durato perlomeno Trenta minuti Ma vabbè Quindi da Valerio Saffelli E' tutto No scherzo Dai veramente raga Bello sto video Mi è piaciuto Ho detto a Manuel Che ho fatto questo video con te E vuole farlo pure lui Quindi devo ordinare un'altra box Ma diversa Vengo anch'io No Ma perché? Billy Un video per uno Cioè che cazzo vuol dire Vengo anch'io No to do Ok Raga Davale Eh sì Davale Stai fesso Fuori di test Come davendo fuori di test Andando alla bella lavatrice Io e Billy Nuovo soprannome di mio fratello Vi salutiamo E ci vediamo Alla prossima Infognata Ah! Ah! Ah!